C'è Maretta in Casa Lega, il capogruppo in Regione, Vincenzo Dincecco, seppur non eletto, difende il suo risultato a Pescara e quello del carroccio in Abruzzo. Ma i malumori interni ci sono e come, lo dimostra il durissimo comunicato di Giuseppe Bellachioma, fondatore del partito in Abruzzo, che senza mezzi termini chiede le dimissioni del segretario regionale Luigi Deramo e l'azzeramento delle segreterie regionali e provinciali. Per lui, alla luce del risultato e della mancata elezione di Deramo, tutti dovrebbero avere un atteggiamento di coerenza e responsabilità. Si perdono consensi, secondo Bellachioma, in una regione governata con sette consiglieri, prima erano dieci, quattro assessori, presidente di commissione in quota Lega. Per questo chiede le dimissioni di Deramo e gli azzeramenti vari. L'8% per Bellachioma è all'inizio della fine in Abruzzo per la Lega e il partito è rimasto senza anima, dilaniato da litigi, fuori uscite, abbandoni e gestione discutibile, anche per le nomi negli incarichi regionali, dice. Per la Lega in Abruzzo entra Alberto Bagnai. A livello nazionale, inutile nascondersi, è stata una debacle. I grandi escusi sono appunto il segretario Deramo in Abruzzo, che oggi, stando ad alcune indiscrizioni, sarebbe da Salvini a Roma, e il capogruppo di Incecco. La sua analisi del voto, però, non è dura come quella di Bellachioma. È chiaro che quando si corre in una competizione così importante si pensa sempre di vincere, però in politica ci sono anche momenti in cui bisogna oggettivamente comprendere che non ci sono state le condizioni. Noi abbiamo in Abruzzo, credo, dimostrato di fare una campagna elettorale concreta e su tutto il territorio, tant'è che il risultato finale dice che l'Abruzzo è una delle migliori regioni in Italia per quanto riguarda il risultato della Lega. Quindi ci piazziamo solamente dietro le regioni del nord, quindi da questo punto di vista possiamo essere soddisfatti. Credo che su Pescara, per quanto riguarda il mio risultato provenendo io da Pescara, io possa essere soddisfatto del fatto che abbiamo fatto anche lì un risultato sopra la media regionale e nazionale. È evidente che c'è un problema nazionale rispetto al voto verso la Lega, quindi è venuto meno un po' di voto politico. Purtroppo paghiamo il governo Draghi, la presenza del governo con il PD e il Movimento 5 Stelle che ci ha oggettivamente penalizzato all'interno delle urne a livello nazionale.